Assessore, torniamo a parlare di opere pubbliche finalmente a Sant'Omero? Sì, torniamo a parlare di opere pubbliche. In questi giorni abbiamo affidato la realizzazione della scuola media di Sant'Omero per un importo di 565 mila euro. Si è concluso il bando di gara per quanto riguarda la scuola elementare per altri 795 mila euro. Stiamo ultimando, dopo aver risolto il problema del contenzioso ereditato con la ASL relativamente ai terreni del centro disabile, quindi adesso ripartiranno anche i centri disabili che sono stati costruiti sotto e nella zona sottostante all'ospedale. Abbiamo anche sbloccato la situazione del nuovo asilo nido che per carenze burocratiche era in una situazione sostanzialmente di stallo con la Regione. Quindi abbiamo dato un po' una sistemata alle carte e adesso le opere entro il 19 dovranno ripartire. Una buona notizia dunque va bene per le scuole, però per quanto riguarda invece le problematiche delle strade, degli asfalti, c'è sempre quella benedetta strada in via Casale con alcuni residenti che lamentano lo stato del manto stradale. Via del Casale per noi rappresenta una priorità, abbiamo fatto più sopralluoghi anche alla presenza dell'ufficio tecnico, purtroppo torniamo sempre allo stesso problema, quello della carenza di risorse. C'è un progetto preliminare approvato il 13 aprile 2014 dalla precedente amministrazione per il rifacimento di quel tratto di strada, ma che non prevede la copertura finanziaria, tant'è che nella delibera di giunta si legge che la copertura finanziaria dovrà essere garantita nelle successive fasi progettuali. Quindi siamo ancora in una fase di ideazione, come dire, embrionale. Nessuna ovviamente falsa promessa per questi residenti, però almeno dire qualcosa anche per far capire che l'amministrazione c'è. No, nessuna falsa promessa. Noi stiamo cercando, per quanto c'è possibile, di agire con interventi tampone, cercando di sistemare e quindi per facilitare un po' la circolazione dei residenti. Ripeto, è nostra intenzione e intenzione dell'amministrazione dare una risposta significativa e stiamo lavorando per reperire quante più risorse possibili al fine di poter intervenire.